Mare Kip vi invita nel suo negozio di parrucchieri uomo e donna a Strambino in via Piemonte 9. Mare Kip, aperto dal 1980, è stato per molti anni parrucchiere ufficiale regionale di Miss Italia. Il salone in via Piemonte 9 è diviso in due ambienti. Al piano sopra è possibile effettuare trattamenti specifici e riservati. Tra i trattamenti più richiesti è extension, chatouche e acconciature per qualsiasi tipo di cerimonia, anche a domicilio, specialmente per acconciature da sposa. Qui si effettua la diagnosi elettronica di cute e capello con microcamera per valutare i trattamenti curativi personalizzati. Sono esclusivisti Vella, dei prodotti curativi al colore, prodotti per la piega, shampoo e tanto altro. Si riceve preferibilmente su appuntamento telefonando al numero 0125 711490. Mare Kip e i suoi collaboratori vi aspettano tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, sabato continuato e giorni di chiusura domenica e lunedì. Mare Kip e i suoi collaboratori vi aspettano tutti i giorni di chiusura domenica e lunedì. Mare Kip e i suoi collaboratori vi aspettano tutti i giorni di chiusura domenica e lunedì. Grazie a tutti.